In Sicilia 62 comune al voto il 4 ottobre dopo il rinvio lo ha deciso il governo musulmane su proposta dell'assessore alle autonomie locali Bernadette Grasso, tra i comuni capoluoghi al voto agrigento con eventuale ballottaggio il 18 ottobre. Sull'assessore alla cultura e leghista Alberto Samonà è bufera, la polemica ruota attorno a una poesia pubblicata dal Fatto Quotidiano in cui l'assessore regionale cantava le SS versi per le squadre d'assalto di Hitler, le reazioni. A Caltanissetta l'ultimo saluto ad Adnan, ucciso da una mano assassina impegnato a denunciare caporalato in viaggio verso il Pakistan. Il comune aiuterà economicamente la famiglia. Il governatore musumeci contro all'Italia per il preoccupante isolamento dell'isola. Impensabile tariffe di 700 euro per un molo. Chiediamo incontro al governo. Si svolgeranno il 4 ottobre le elezioni amministrative in 62 comuni dell'isola. Lo ha deciso il governo musumeci su proposta dell'assessore alle autonomie locali Bernadette Grasso. L'eventuale ballottaggio è fissato per il 18 ottobre. Ad essere coinvolti dalla tornata elettorale straordinaria a seguito del doppio rinvio deciso per contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione della pandemia da Covid-19 saranno oltre 810 mila siciliani. In precedenza le elezioni erano state fissate il 24 maggio, ballottaggio il 7 giugno e successivamente il 14 giugno con ballottaggio il 28. Ma in entrambi i casi, visto l'evolversi della situazione emergenziale dovuta all'epidemia, la tornata elettorale era stata rimmiata al secondo semestre 2020 in una data comprensa tra il 15 settembre e il 15 novembre. Unici capoluoghi di provincia che andranno alle urne sono Agrigento e Denna. Oltre che nei comuni il cui rinnovo degli organi amministrativi era già fissato per scadenza naturale, 52 enti, si voterà anticipatamente anche a Castel Termini in provincia di Agrigento, San Pietro, Clarenza nel Catanese, Partinico e Termini, Merese in provincia di Palermo, Floridia nel Siracusano, attualmente commissariati e a Camastre e San Biagio Platani nell'Agrigentino, Bonpensiere in provincia di Caltanissetta, Tre Castagni nel Catanese, Vittoria in provincia di Ragusa sciolti in precedenza per mafia dal Consiglio dei Ministri. Tra i comuni più grandi coinvolti, oltre ai due capoluoghi, ci sono Marsala nel Trapanese, Barcellona, Pozzo di Gotto e Milazzo in provincia di Messina, Carini e Partinico nel Palermitano, Augusta in provincia di Siracusa e Vittoria nel Ragusano. A essere eletti saranno 872 consiglieri, in 18 comuni si vota col sistema proporzionale, in 44 con il maggioritario, in provincia di Agrigento al voto Agrigento, il capoluogo appunto col proporzionale per eleggere 24 consiglieri comunali, Camastra maggioritario, Cammarata maggioritario, Casteltermini maggioritario, Raffadali maggioritario, Realmonte maggioritario, Ribera proporzionale, San Biagioplatani maggioritario e Siculiana maggioritario. In provincia di Caltanissetta il voto a Bonpensiere maggioritario, Mussomeli maggioritario, Serra di Falco maggioritario e Villalba maggioritario. Sta suscitando roventi polemiche, la vicenda scoppiata dopo che il Fatto Quotidiano ha pubblicato un articolo che ha ripreso alcune righe di una poesia che secondo il Quotidiano inneggerebbe ai valori nazisti scritta dal neoassessore leghista ai beni culturali e all'identità siciliana Alberto Samonà. Quest'ultimo era ancora trentenne quando scrisse i versi stampati a pagina 33 del volume Le Colonne dell'Eterno Presente, dato alle stampe nel 2001 in cui parla del sacrificio dell'ultima Tule e di monaci dell'onore, con un chiaro riferimento secondo la ricostruzione del quotidiano contestata dal diretto interessato alle SS. Una questione che rischia di degenerare in una guerra interna anche dentro la Lega che in Sicilia nel frattempo ha cominciato a registrare nei giorni scorsi diverse fuoriuscite nei vari territori. Attendo da qualche ora che venga pubblicata una smentita di quanto ho riportato circa inno alle SS da parte dell'assessore Samonà. Non ho letto né una smentita né una presa di distanza né una parola di scuse alle vittime dello sterminio nazista, scrive in una nota la deputata regionale leghista Marianna Caronia. Mi aspetto, dice, una presa di distanza dall'interessato e dalla Lega ai suoi massimi livelli che devono chiarire se quelle parole e i disvalori culturali che promuovono possano passare sotto silenzio. Mi aspetto che la Lega chiarisca se l'autore di tali abominevoli espressioni ed apprezzamenti possa rimanere a suo posto o se piuttosto non mada velocemente, caldamente, imitato a dimettersi, conclude Caronia. Il presidente della commissione antimafia Claudio Fava afferma in una nota un giovanotto che scrive versi in onore delle Schutzstaffeln, le SS, va curato il presidente musumeci fascista mai pentito se l'è scelto come assessore alla cultura. Samonà massone insonno ed esegeta mai pentito di delle chiaie va rispedito a casa a studiare la storia oppure musumeci cambi nome all'assessorato. Non più identità siciliana ma difesa della razza. Sulla vicenda intervengono anche il coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli, secondo il quale è inammissibile e disgustoso che chi ha definito monaci dell'onore, le SS, possa ricoprire il ruolo di assessore. Samonà, Sidimetta ed Emanuele Fiano del PD che imita Salvini, che sarà oggi in Sicilia per un tour, a prendere le distanze e a mandare a casa questo assessore che inneggia alle SS di Hitler ed il parlamentare di Leu, Erasmo Palazzotto, si rivolge al presidente della regione. Mi chiedo cosa ci sia di onorevole nel farsi affiancare al governo della regione da un filo nazista come Samonà. La mia terra merita rispetto, così come i siciliani. Vogliono piena giustizia il cugino Tavir e gli amici di Adnan Siddiq. Ieri ultimo saluto tra la commozione di tutti i presenti. Erano lì con lui per l'ultima volta gli affetti costruiti in questa nuova vita in Italia. Ragazzi che come lui inseguono il sogno di una vita migliore dall'altra parte del mondo. Le lacrime dei suoi datori di lavoro hanno più valore di ogni altra parola perché per loro Adnan era più che un dipendente. Presenti anche il primo cittadino Roberto Cammino e l'assessore alle politiche di inclusione sociale Cettina Andaloro. Chi conosceva Adnan non si dà pace per questo epilogo tragico. Lui non era un bracciante ma un bravo artigiano del settore tessile, catapultato in una storia di caporalato perché ha avuto il coraggio di opporsi alle ingiustizie subite dai suoi connazionali invitandoli a denunciare sul fatto ad oggi gli inquirenti continuano ad indagare. Ieri è stata una giornata tristissima perché è stato ricomposto il feretro di Adnan ed è stato consegnato ai suoi connazionali per essere trasportato alla ORE. Questo ragazzo è stato ucciso da una mano assassina, una mano assassina che ha di fatto compiuto una tragedia perché questo ragazzo aveva aiutato dei suoi connazionali a denunciare quelli che l'altro giorno l'hanno uccisi. Lasciamo fare il corso alle indagini, lasciamo la magistratura alle sue verifiche, però la cosa tristissima, la cerimonia c'è stata, una piccola cerimonia dei ragazzi che sono ospiti al Cara, poi i ragazzi che sono ospiti al Cara, è veramente stata una cosa triste, triste, triste e soprattutto era triste vedere lì i datori di lavoro di Adnan piangere, piangere perché questo ragazzo è stato adottato non solo dalla famiglia ma dalla nostra città. La nostra città ha subito veramente un grave lutto, c'è un ragazzo veramente pulito per bene che faceva il suo lavoro, era perfettamente integrato, era messo in regola dall'azienda, che io ringrazio, queste sono aziende sane, sono le aziende sane con cui vogliamo andare avanti noi, noi non vogliamo andare avanti con aziende che sfruttano i lavoratori, noi vogliamo andare avanti con le aziende sane, questa è un'azienda sana, per cui nella rigenerazione di Caltanissetta avrà un posto di rilevanza, non si può morire nel 2020, perché ci si comportano bravi cittadini, non è possibile, questo non lo accetto, per cui invito gli organi inquirenti e chi sta compiendo le indagini ad andare fino a fondo, fino in fondo è giusto capire qual è la filiera che porta i ragazzi dal Pakistan fino a Caltanissetta, ci deve essere un'organizzazione criminale di livello internazionale che controlla questo traffico, traffico di mano d'opera che arriva da fuori, sfruttata fino all'osso con veramente delle situazioni terribili, questo nella mia città deve finire e io in questo momento sto facendo l'appello a tutti gli organi competenti, chi sta compiendo le indagini e sicuramente lo sta facendo da alto livello e vi annuncio pure che nel processo contro questi delinquenti, sfruttatori, capovali e rappresentanti della malavita pakistana, il comune di Caltanissetta si costituirà sicuramente parte civile, nella speranza che accetteranno la nostra Costituzione, per cui da questo punto di vista noi saremo sempre e comunque in prima linea. La salma trasferita ieri da Caltanissetta a Milano sarà poi trasportata in aereo alla ora in Pakistan, mentre le spese del volo dal capoluogo lombardo fino in patria sono state già coperte dal governo di origine di Adnan, la comunità pakistana nissena ha voluto affrontare le spese di trasporto della salma fino alla tappa milanese. Per quella stessa tappa il comune era disponibile a dare il contributo della trasferta e allora a quel punto ha deciso di devolvere la somma alla famiglia d'origine del giovane che versa in gravi difficoltà economiche. Venerdì prossimo alle 19 a Caltanissetta in corso Umberto I si terrà una manifestazione per chiedere giustizia per Adnan e verità sull'omicidio. Grande partecipazione questa mattina alla protesta organizzata dal governo regionale dall'Anci Sicilia all'aeroporto di Palermo, Falcone e Borsellino. Gli amministratori regionali e comunali contestano il preoccupante isolamento della Sicilia determinato dalle irresponsabili scelte compiute da Alitalia che rischiano di compromettere la stagione turistica e la stessa ripresa economica dell'isola. Caro prezzi e riduzione dei voli al centro della protesta. In un momento che dovrebbe registrare la ripresa economica della nostra isola e invece registra il cinismo di una compagnia, proprio la compagnia Alitalia che pur mantenendosi con tre miliardi di euro da parte dello Stato e quindi da parte dei cittadini si permette di fare i capricci nel proprio piano voli, abbandonando gli scali minori, mantenendo limitato il numero sulle corse, negli scali maggiori e soprattutto adottando una politica dei costi inaccessibile. Per noi isolani il trasporto aereo non è un lusso, non è la voglia di provare una emozione, questo si fa quando si è giovani e quando si vola per la prima volta. Per noi il trasporto aereo è una necessità. Per muoverci in tempi rapidi la politica adottata da Alitalia scoraggia la mobilità dei siciliani. Chiediamo al Governo nazionale di intervenire su Alitalia per applicare una tariffa unica per i siciliani che faccia la media fra le tariffe accessibili in caso di prenotazione da un mese, un mese e mezzo e le tariffe inaccessibili in caso di esigenza di ricorrere al trasporto aereo nello spazio di 24 ore. Si va dai 67-70 euro ai 700-800 euro. non è assolutamente possibile. Si stabilisca una tariffa, 100-150 euro a seconda se si debba andare a Roma o a Milano e si eviti questa campagna di speculazione. Code distanziate all'entrata, balli solo all'aperto e mai troppo vicini sono alcune delle regole decise dalla conferenza delle regioni per la riapertura delle discoteche, fissata per lunedì, 15 giugno. È ormai chiaro che il divertimento quest'anno avrà regole e limitazioni a causa delle misure di contenimento del Covid-19. Non ci si aspetta mesi ruggenti, però spassarsela un po' da lunedì dovrebbe tornare possibile. Già perché al tempo del distanziamento tutto sarà diverso, il popolo delle discoteche, ma anche di cinema e teatri, dovrà applicarsi con diligenza per rispettare le prescrizioni vigenti. Queste le misure più importanti, almeno un metro di distanza tra gli utenti e almeno due tra coloro che accedono alla pista da ballo, percorsi separati di entrata e uscita, contapersone per monitorare gli accessi e dispenser di gel igienizzante in più punti del locale, addetti alla sorveglianza per garantire il distanziamento interpersonale e uso di termoscanner in modo da evitare l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 gradi. Il consiglio è quello di dotarsi di un sistema di prenotazione, pagamento e compilazione di moduli online al fine di evitare assembramenti e mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Tra le misure più contestate c'è l'uso di sacchetti monouso per riporre gli oggetti nel guardaroba, e il divieto di consumare le bevande al banco. Preoccupati i gestori delle discoteche che ieri a Roma hanno protestato a nome dell'intero comparto in un flash mob. Siamo fermi da oltre 100 giorni e siamo molto preoccupati, sottolineano. Il danno è per 2.500 locali e 100.000 lavoratori per un fatturato annuo di 4 miliardi. Dattilo e Paternò possono stappare. Lo spumante sono loro le società siciliane promosse nel campionato di Serie D. E questa è la decisione che il Consiglio di Lega della Lega Nazionale Dilettanti ha preso nella giornata di ieri, riunito nel Salone delle Cerimonie del CONI. Tutte le prime classificate dei gironi di eccellenza sono state promosse nel massimo campionato dilettantistico, mentre le retrocessioni dall'eccellenza alla promozione sono scese da 4 a 1. Andranno nella categoria inferiore infatti solo le ultime classificate. Dal girone A l'Alba Alcamo, dal girone B nessuna squadra, visto che in organico vi erano già 13 squadre. La festa arriva da Dattilo, una piccola frazione del comune di Paceco, famosa per i suoi cannoli, che per la prima volta affronterà la Serie D. Siamo contentissimi, racconta il presidente Michele Mazzara. Stiamo già programmando le prime riunioni dei soci per pensare al campionato. Il tecnico Chianetta è stato l'ideatore del progetto insieme al direttore sportivo Scarcella e di nostri collaboratori. Per il Dattilo il nodo resta quello dello stadio. Così come accaduto con il Paceco qualche anno fa, la squadra rischia di trasferirsi a Trapani nel caso in cui non dovesse essere messo in regola lo stadio Mancuso. Grande festa anche per il Paternò che tornerà a giocare in Serie D a sette anni di distanza dall'ultima volta. Se da una parte però c'è la gioia di Dattilo e Paternò, dall'altro lato c'è la delusione delle seconde classificate. Canicattie e Sant'Agata potranno puntare al salto di categoria tramite la graduatoria di ripescaggio nella quale godranno di un'ottima posizione. Sempre in eccellenza ci sono importanti novità per le quote iscrizione in Sicilia che scendono da 3.000 a 2.500 euro. Inoltre ci sarà un intervento contributivo per tutte le società dalla LND sempre per la quote iscrizione. 1.500 euro alle società di eccellenza, 1.200 per la promozione, 1.000 per la prima categoria, 800 per la seconda categoria, 500 per la terza categoria, 300 per il calcio a 5, 300 per il calcio femminile. Ci sarà un taglio anche nelle assicurazioni che scenderanno da 29 a 27 euro, ma ci potrebbe essere uno sconto ancora più sostanzioso dopo i dialoghi con la compagnia assicurativa della LND. Raddoppiato invece il progetto valorizzazione giovani che passa da 3 a 8 società in graduatoria con gli under che il prossimo anno saranno 2001 e 2002. Dalla promozione in giù infine non ci sarà alcuna retrocessione. Confermato invece il salto di categoria per le prime in classifica, Unitas-Sciacca, Igea 1946, AC Sant'Antonio e Siracusa. Previsioni per oggi. Al mattino, a nord, bel tempo, con cieli sereni. A sud, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, a nord, bel tempo, con cieli quasi sereni. A sud, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, a nord, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. A sud, schierite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, a nord, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. A sud, bel tempo, con cieli sereni o velati.